Costruisci 5 cappellini di carta da un unico foglio di giornale. Per prima cosa dispiega il foglio, poi piega la metà. Piega metà per segnare l'asse e quindi dispiega. Piega i due triangoli superiori. Piega le strisce rettangolari alla base a metà e poi ripiega le sue stesse. Questo sarà il tuo primo cappellino, un grande cappello da pioggia. Poi giralo e chiudi entrambe le ante. Piega dei piccoli triangoli rettangoli a entrambi i lati. Piega l'apertura per fare il secondo cappellino. Un cappellino da chef. Piega il tetto triangolare e inseriscilo nelle aperture. Questo sarà il tuo terzo cappellino. Aprilo, appiattiscilo e forma un quadrato. Poi ruotalo e piega gli angoli. Ora inserisci gli angoli nelle tasche. Aprilo per fare un cappellino quadrato. Piega tutti e quattro gli angoli per farli stare in piedi. Questo è il quarto cappellino a forma di scatola. Apri le due aperture per fare un cappellino da graduation. Fai due cappellini quadrati. Poi costruisci qualche oggetto buffo e usa i cappellini per fare una scatola regalo da dare a qualche amico. Apri le due aperture per fare un cappellino. Grazie a tutti.